Sì, bentornati e bentrovati, spero che abbiate passato delle splendide ferie, quindi ciao Edo e ciao Leo, buongiorno ragazzi. Ciao, ciao Enrico, sì un mese io, direttamente, proprio dritto. Sì, Leo non voleva più tornare, vedi tu, non lo so, facciamo una lettera di richiamo oggi, cosa suggerisci? Hai fatto l'europeo praticamente. Sì, esatto, sono andato in finale. Tu, Henry, vacanze? Io sono ancora in vacanza, ma semplicemente mi trasferisco da un posto a un altro, però di fatto lavoro come un maledetto tanto quanto a Roma, quindi non cambia, non cambia molto. Tra l'altro oggi è qui con noi, perché io ho fatto la danza della pioggia ieri sera, perché se domani non piove vado al mare, allora io danzo della pioggia ed ecco Enrico si restringe con noi. Beh, Henry, ci sono un sacco di cose a dire obiettivamente. Direi di sì, infatti lascio guidare voi in questo mare magnum tematico, prego. Allora, vado subito, perché io sono un filo, tra virgolette, controcorrente dopo la partita col Torino, almeno da quello che ho visto in giro per il web, nel senso che per me le critiche a Fonseca e a quello che abbiamo visto in campo, Henry, poi mi dirai la tua, che può essere anche l'opposto, sono eccessive, sono forvianti, il mister ha avuto solo cinque settimane per preparare questa squadra. nonostante poi alcune scelte di formazione possono essere criticabili o meno, però io vedo che c'è in atto un processo di cambiamento, che sarà più o meno lungo, anche dovuto ai ritardi del calciomercato, però l'idea che sta impostando a me non dispiace. Allora, è chiaro che, guarda, quando anche sotto i commenti ai miei video o nella live che ho fatto di post partita scrivevano Fonseca Out, mi veniva veramente tanto da ridere, fa veramente ridere, però sai che il tifo è molto particolare, no? E anche la parte umorale. Volabile, volabile. Esatto, cioè io non posso sempre pretendere che il 100% delle persone abbiano la lucidità di analizzare e di capire. Se già c'è un 20%, un 25% o 30% che è in grado di farlo, per me io me lo tengo stretto e mi pare che comunque questa percentuale abbia perfettamente capito. È chiaro che Fonseca di suo ha messo, perché ha schierato una formazione estremamente rischiosa, perché adattare, per esempio, io non ho veramente compreso che cosa sia successo con Selemekers terzino e Imenetz dato, schierato dal primo minuto in under 23. Questa cosa io proprio non l'ho compresa. E tra l'altro di conseguenza non capisco neanche Terracciano, perché se lui deve essere, allora o abbiamo un vice Teo Hernandez o non abbiamo un vice Teo Hernandez. E questo è un problema enorme nel mercato, perché è vero che Teo non si fa male, ma può fare ad altrimenti. Beh, però scusate, su questo era stato detto che Imenetz era il backup di Teo Hernandez. Sicuramente il mister considera Selemekers, un po' come tutti gli allenatori del resto, i Selemekers, un giocatore adattato. Sì, esatto, uno che più o meno ti dà sempre lo stesso tipo di garanzia, però ovvio che era in un ruolo che non era decisamente suo. Allora, può anche andare bene, ma dipende chi hai contro, perché se hai Bellanova che è alto 100 metri più di te e che ti salta in testa nel gol, o se vedi che già dai primi minuti ti inizia ad asfaltare sulla fascia, evidentemente Selemekers poi lo devi adattare, lo devi cambiare, allora devi fare un'altra scelta. Motivo per cui, secondo me, partire dalla prima di campionato con giocatori adattati è un errore, vuol dire che la coperta è corta. Perché, oppure, se tu mi dici che è Imenetz, se mi hai tranquillizzato, se noi abbiamo detto che la coperta è corta, e la risposta della società è stata no, non è corta, perché abbiamo Imenetz, ma Imenetz deve essere allora regolarmente in campo. Non può essere in campo con l'Under 23, perché a questo punto il progetto Milan Futuro non lo capisco più. Ma anche Bartesaghi, io adesso non so se Bartesaghi in questo momento è infortunato, si sta ascoltando, eccetera, ma anche Bartesaghi a questo punto viene a dire che non viene considerato. Allora, secondo me, la scelta di Selemekers lì è figlia del fatto che lui ha schierato semplicemente i giocatori che c'erano dall'inizio della preparazione, a parte Christian Pulisic, ha scelto quelli, perché anche l'off to cheek in mediana non si può vedere. Che garanzia ti dà, Leo? Che garanzia ti dà? Selemekers lì, che garanzia ti dà? Leo dice di preparazione fisica. Cioè, Teo è entrato, non ce la faceva ancora proprio. Poi io spero che sabato contro il Parma sia sicuramente diverso, però su questa diciamo che lo posso capire. Poi se mi continuo a fare delle formazioni sgangherate, Henry, chiaro che dico, ok, no, stai facendo delle scelte più liste, però... Allora, c'è da dire che anche alla prima partita, ragazzi, è arrivato, deve ancora capire chi sono i giocatori, dove può rendere un... può anche aver fatto un esperimento e aver detto, ok, da non ripetere. Ma poi gli esperimenti, Edo, li stai facendo a San Siro con la tifoseria del Milan dopo che abbiamo fatto cinque anni di pioli e dopo che siamo saturi di un certo tipo di esperimenti e di cose. E quando soprattutto si è considerato, è stato definito chiuso il mercato dei Peroimovic qualche giorno prima. Quindi se tu inizi con i giocatori adattati e se tu non puoi schierare, se non puoi schierare Emerson Royale e devi mettere Calabria e Calabria viene sommerso dai fischi, giusto o non giusto che sia. Permettendo che secondo me... Il pubblico paga e ha sempre ragione, come a teatro fischiano se non gli piace la prestazione, quindi c'è poco da essere ingiusti o meno. Se il pubblico lo ritiene giusto, il pubblico contesta. Ora, se tu arrivi con Emerson Royale che per motivi burocratici non lo puoi schierare, se tu arrivi con Fofanà che non può giocare, allora, e devi adattare un giocatore che mi sembra del tutto inadattabile, come l'Oftus Chic, sia in tre quarti che ancora di più in mediana. E allora, figlio mio, qui c'è un problema non solo di Fonseca, c'è un problema di acquisti. Perché ci sei arrivati lunghi. Si è arrivati lunghi. Ascolti, direi la trattativa in quella maniera e dici che c'è tempo, perfetto. Se tu dici che c'è tempo, ognuno vive delle sue dichiarazioni. Se la società ha detto che c'era tempo e che non c'era fretta, benissimo. Allora, i giocatori del primo tempo della nostra formazione sono i migliori possibili e c'è poco da dire che sono state scelte costrette. Non sono scelte costrette, sono le seconde scelte che noi abbiamo. E poi non sono buone. E la colpa è di chi ha chiuso il mercato. Non è sicuramente di Fonseca. Più che altro sai cosa, Harry? Prima stavano discutendo con Leo, ad esempio, la situazione di Fofanà, che era un obiettivo di inizio mercato, quindi va dato atto alla proprietà, alla dirigenza, insomma, di aver individuato un colpo, giusto o sbagliato che sia, però, e di averlo portato a caso. Il punto, quello che fa riflettere, casomai, è la dinamica. Perché, come ricordavo giustamente Leo all'inizio, chiedevano 25 e Milan è partito da 12 due mesi fa per arrivare a 25. Non è corretto perché non sono 25 reali, ma sono 25 compresi bonus. Sì, 25 più o meno. Mentre la richiesta che veniva fatta dal Monaco era di 25 più i bonus. Quindi è un discorso diverso. Quindi lì il Milan ci ha guadagnato nel tirare la trattativa. Ciò non toglie che l'opportunità di avere delle tempistiche, di comprendere quanto quei 3-4 milioni nel bilancio di una società sana siano così impattanti, e questo bisogna farselo. Cioè, se tu sacrifichi sempre la parte sportiva, il campo, perché? Non importa, possiamo aspettare, eccetera. Ok, poi quello che noi commentiamo sono scelte, che non sono soltanto ovviamente di Fonseca, ma sono scelte di tutto l'ambiente, di tutto l'ambiente. Esatto. Infatti, a beneficio di... Se tu, scusami, se noi abbiamo 40 terzini destri e non abbiamo nessuno di ruolo a parte Teo Hernandez a sinistra, è un problema. Quindi aver detto, ci abbiamo invece Teo Hernandez, ai tempi sembrava non infangare la società, ma semplicemente una domanda razionale. Se tu hai un solo mediano, che è quello che, visto che probabilmente venderanno anche Benaser, che è l'unico che potrebbe fare di ruolo, interpretare quel ruolo lì, e poi prendi soltanto Fofanà, secondo me sei corto. Se tu non hai un trequartista, allora, bene, allora dimmi che non giochi col trequartista, perché se puoi giocare col 4-2-3-1, il trequartista ti serve. Quindi, se tu giochi a tre, la nostra squadra probabilmente ha tutto un altro senso. Mancano sempre giocatori, però inizia a prendere un altro assetto. Giochi col 4-3-3, che è anche quello che aveva scritto Ibra e non si sa, sarebbe da chiedergli perché. Però, tu giochi in altra maniera, allora sfrutti le mezzali. Se sei pieno di mezzali e di giocatori adattati, se non hai, soprattutto noi, puoi giocare con Jovic prima punta. Quei ragazzo, Riccardo, prima, ero d'accordo su tutta la linea sulle cose che ha detto. Ha detto solo cose giuste, intelligenti. Cioè, Jovic ha una seconda punta, nell'Inter farebbe 40 gol. Qui no, perché non giochi con la seconda punta, come da noi Turam non avrebbe avuto senso, perché è una seconda punta e noi non giochiamo con due punte. Quindi, con quel modulo lì, ti basta il solo Morata, che tra l'altro non è un reale centravanti? Serviva comprare Pultrug, prenderlo quando costava 15 e non quando poi è arrivato a 25? Oppure chiunque, io dico chiunque altro. Noi stiamo qui a commentare delle scelte. Delle scelte, nelle scelte, tutto. Non c'è il solo bisogno. No, voglio dire solamente a beneficio di non soleggere che diciamo siamo qui a spaccarci i gonadi. No, siamo qui su Radio Rossonera a commentare la partita e il mercato del Milan in tutta serenità. Siamo qui, parliamo di quello, quindi di quello che è andato bene, di quello che è andato male, eccetera, eccetera. Prima di lasciarti parola, Leo, anche però, Okafor, che cosa ha fatto di male? Che cosa ha fatto di male per non essere mai considerato? A chi ha posto di chilometti, però? No, Okafor prima punta. L'anno scorso i pochi esperimenti, uno forse due, che sono stati fatti con Okafor prima punta non avevano. Sì, e infatti Okafor scone troverà anche il suo spazio nell'arco di questa stagione, però è chiaro che in questo momento i titolari sono Leao, Pulisic, Morata, allo stesso Ciuqueze, già in precampionato, al di là della partita negativa contro il Torino. Ma io non mi focalizzo tanto, Harry, diciamo sul modulo, perché poi secondo me alla fine dei conti, veramente non dico che 4-2-3-1, 4-3-3, siano più o meno la stessa cosa, però dipende anche dai giocatori che hai. È fondamentale. Però Pulisic ha fatto un po' anche la mezzala, per quello arrivava spompato alla fine. Pulisic dovrebbe giocare a destra e Ciuqueze dovrebbe stare in panchina a fare invece Pulisic, ok? In un mondo ideale, Pulisic dovrebbe giocare a sinistra, visto che è il suo ruolo. Se tu non vuoi adattare i giocatori, Pulisic è al posto di Leao, oppure se la gioca con Leao. Se tu non vuoi andare a spostare niente, idem Okafor, è lì ed è il terzo. Oppure devi avere un modulo che preveda due punte e allora a quel punto ti tornano utili sia Okafor che Jovic, ma devi avere un modulo a due punte. Che succede? Nel modulo a due punte devi giocare probabilmente un 3-5-2, andrebbe benissimo per la nostra difesa, andrebbe malissimo per chi? Per Leao. I nostri problemi, il motivo per cui giochi 4-2-3-1 è perché hai Leao. E quello è il problema grosso, che non vuol dire che Leao è la colpa, è il responsabile dei nostri mali, ma tutto l'impianto nostro è fatto per favorire Leao, ok? Perché Leao è considerato ovviamente il giocatore più importante. Io considero Teo il nostro giocatore più importante, non Leao, però la mia è un'opinione personale. Ora, se tu devi giocare per lui, poi lui però deve ripagarti. Perché poi al quarto minuto, quando appena hai iniziato un campionato e tu, una palla lì davanti, devi avere il fuoco negli occhi e nella gamba, poi devi segnare. E anche dopo, quando sei a 2x2 con Milinkovic-Savic e fai quel diagonale così, devi segnare. Sì, quella era solo davanti a... letteralmente solo davanti a... Sugli errori che hanno pesato nella partita, io sono d'accordo, hanno pesato quasi più degli errori in fase difensiva del Milan, che sono a Tavic, che vanno risolti, quel gol lì va fatto. Il calcio è questo, vuol dire che in una partita difficile la indirizzi immediatamente, non la rendi difficile, perché la indirizzi immediatamente al quarto a tuo favore e da lì giochi un'altra partita. Oppure al ventesimo o quand'è, la indirizzi in un'altra maniera. Se poi la partita diventa difficile, tu poi quelle occasioni le rimpiangi. Noi abbiamo rimpianto la Champions League perché nelle prime due partite abbiamo sprecato occasioni e avremmo passato il turno con la pipa in bocca e invece purtroppo abbiamo dovuto vivere un altro tipo di situazione. Perché? Perché non abbiamo capitalizzato. Ma quante volte abbiamo detto che noi serve capitalizzare? Quante volte abbiamo detto che Leao deve crescere? Leao è nel suo prime. Cioè i giocatori forti alla sua età sfondano le porte ormai. Non è che Leao devi stare lì ad aspettare che cresca, perché altrimenti è Benjamin Button. Capisci? Cioè è strano. Non torna più. Leao deve ampiamente dimostrare Madame Mo. E fare chi dice, eh ma ha segnato, è andato in doppia cifra. Ma questo è un giocatore che potrebbe fare 30 gol. Non farne 10, non farne 12, non farne 15. Questo qui si mangia una quantità enorme. Io vorrei appunto, questo è come si dice, una sfumatura ma è molto importante. Quando si critica Leao, non è perché Leao è scarso, è perché da giocatori come Leao ci si aspetta di più. Come dice Harry, Leao può arrivare a 20 gol in una stagione. C'è là, è nel suo prime, è nel momento migliore per età, per condizione, eccetera, eccetera, tutta la sua carriera. Quindi, come dire, ci aspettiamo che faccia questo salto. Però criticarlo non significa dire che Leao è scarso. Cioè ci sono, come dire... No, è il discorso. Di Leao è funzionale o meno? Questo è il discorso. Perché è vero che si smarca e tutto. Però la domanda poi diventa una. Bene, ma non esiste un giocatore che magari valga di meno, che ti permetta di capitalizzare un'eventuale cessione di Leao, ma avere un giocatore più pragmatico, oppure che sappia dialogare meglio con una punta, oppure con il centrocampo. E quindi che ti permetta di guadagnarci alla fine in termini di gol o in termini di reti che può stegnare lui. Ci sono giocatori. Cioè, secondo me, anche quello del Borussia Dortmund, dell'esterno, per dirti, ha dei nienmi. Quello è un giocatore che, secondo me... La Juve mi sembra che gli ha fatto un accordo. Io non voglio fare paragoni, perché non si tratta di giudicare il giocatore in sé, si tratta di giudicare il giocatore all'interno del tuo contesto. Alla fine, siamo sicuri che è una dei nienmi... Cioè, perché Ocafor, quando entra, ha un rateo molto più alto di Leao. Eppure è un giocatore meno tecnico, meno appariscente, meno capace. Non costruisci mai la squadra intorno a lui. Eppure è un giocatore pragmatico. Concreto, certo. E alla fine, quando tu fai così con le braccine perché hai pareggiato la partita alla fine, lo fai perché hanno segnato due pragmatici, Morata e Ocafor. Non perché ha segnato Leao o perché ti sei storbicciato agli occhi perché ha fatto una discesa a Leao. Cioè, conta segnare. E questo, secondo me, è tutta la differenza del mondo. La nostra è una squadra che ha dei problemi proprio anche di concentrazione. E lo vedi in difesa, lo vedi a centrocampo. Ecco, abbiamo detto, Henry, stessi problemi dell'anno scorso in fase difensiva. Chiaramente è solo la prima partita, però diciamo, quello era l'obiettivo numero uno, rendere più sicura. Proprio tutta la fase difensiva, non tanto la difesa in sé, ma proprio tutta la fase difensiva della squadra, cominciare dagli attaccanti, centrocampo e ovviamente anche la difesa. Puoi giocare con Leao, Ciuqueze e Pulisic? Preparati perché devi avere due centrocampisti diversi. Se giochi a tre, puoi permetterti Reinders che costruisce il gioco e due mediani vicino. Fofanai è un eventuale con E. E allora a quel punto Reinders può giocare sereno, nella sua posizione, svariare, fare le cose che lui sa fare bene. E a quel punto magari c'hai anche un Leao più vicino alla porta. Cioè, nel senso, dipende sempre da come vuoi ottimizzare quello che tu hai. C'è stato detto che Fonseca era il migliore allenatore per la nostra squadra. Io non vorrei che Fonseca sia stato scelto perché migliore allenatore per un 4-2-3-1. Come se fosse un dogma imposto. Ma chi l'ha detto che noi dobbiamo giocare con il 4-2-3-1? Ma quale dottore ce l'ha prescritto? Soprattutto, se c'è stato un errore di valutazione e continuano a non comprenderlo. Cioè, avete comprato mezzali col 4-2-3-1, non vanno bene. Perché servono i DS? Perché servono uomini di campo? Perché sono quelli che poi capiscono. Ma perché Fonseca si stia fissando e focalizzando sul 4-2-3-1 per me è un mistero? Non lo capisco. Io infatti, la domanda che vi voglio fare a te, Leo, è ma questo tridente ha supporto di Morata, ha supporto dell'attaccato? Quindi Leao, Pulisic, trequartista e Ciucuezze alla destra, è sostenibile tutto l'anno? Oppure prevediamo già che questa soluzione verrà accantonata tra un po'? Per me verrà accantonata, non è sostenibile tutto l'anno, è sostenibile in alcune partite, in alcune frazioni di gioco. Quello sì. Quello sì. Non sarà sostenibile per sempre, questo è abbastanza evidente. Difficilmente sostenibile, secondo me, col 3-5-2 avversario, ecco. Perché lì sì che ti sarà un filo più di equilibrio. Io però non sono così tanto convinto che 4 attaccanti siano sempre troppi. Non so come spiegarmi. Dipende da tante cose. Hai preso 69 gol la stagione prima. La risposta è lì. E' chiaro che non te li puoi permettere. Ci sta nei numeri la risposta. Non te li puoi permettere perché non hai equilibri. Abbiamo detto bravo a Fonseca perché sembrava voler equilibrare. E a noi serve proprio uno che mette in campo con criterio, con del buon senso, questi giocatori. Pulisic, lì, non ha senso. Allora, devi dire che cosa vuoi. Hai voglia di un giocatore alla che sì? Perché noi abbiamo vinto lo scritto con che sì che stava in quella posizione. Ok? Hai bisogno di un giocatore alla che sì? Investi su un giocatore alla che sì. Allora Fofana non lo metti là dietro ma lo metti là davanti. Per dirti una fesseria a casa. Certo. Ma è appunto per dirti una fesseria a casa. Hai bisogno di un giocatore? Ma calcola che sì, hai bisogno di un giocatore che abbia piedi ma abbia corsa e copertura. Perché altrimenti non riesci a giocare così. Oppure dici, guarda, voglio un trequartista puro. Per fare il mio 4-2-3-1 voglio un trequartista puro. L'eventuale Samard, dice. Allora vai su un giocatore che faccia quel ruolo. L'eventuale, proprio eventuale, perché è andato all'Atalanta. Non puoi dal giorno 1 convertire Pulisic perché non ha senso. Cioè andare, queste cose le fai quando hai avuto gli infortuni, non quando hai ancora aperto il mercato. Non ha senso. Non puoi considerarlo chiuso. Perché devi adattare oggi? Compra. Compra un trequartista. Cosa ti serve? Fonseca, che ti serve? Come vuoi far giocare questo 4-2-3-1? Che tipo di giocatori di interdizione ti servono? Che tipo di trequartista ti serve? Ma infatti Samardzic sarebbe stato un ottimo acquisto, secondo me. E' un altro che non copre zero. Cioè quindi alla fine è come un Pulisic. Quindi è vero che consideri la fase offensiva, ma devi calcolare che questa squadra ha preso 69 reti. Quindi tu devi fare in modo probabilmente di dare copertura ma creare anche gioco. Perché copertura, se tu copri, però devi avere buoni piedi per costruire perché non puoi passare sempre dagli esterni. Per costruire perché non hai finito. Ti giro la domanda di Brad. Prima però, volevo dire, apriamo le telefonate. Veloci, veloci, veloci. Così se volete fare delle domande a Enrico, dimmi tu Enrico quanto ti possiamo tenere ancora una decina di minuti. L'abbiamo tutti, dai. Perché sulla tua considerazione Brad dice, lo abbiamo in casa, quel giocatore si chiama Tijani Reinders. Reinders non copre. Cioè Reinders è un giocatore che non deve correre per il campo a inseguire gli altri. Reinders è un giocatore che deve costruire. Quindi, secondo me, in un modulo A3 Reinders si esprime bene perché è in grado di proiettarsi e dietro A2 che sono più o meno bloccati. Ma tra l'altro Fofana non è proprio un giocatore bloccato perché è un cavallo pazzo, è uno che si lancia a molta propensione offensiva. Quindi, da quel caso, Coné, per esempio, è proprio quello, fa quella roba lì. Allora, A3 lo puoi mettere lì anche perché Coné pare abbia un minimo di propensione a giocare un tantino esterno. Quindi lo metti A3 e tu hai risolto il tuo problema. Poi i davanti possono fare quello che vogliono. Perché riesci a tenere la squadra corta, a fare una difesa di sistema e riesci anche a poterti permettere i giocatori così davanti. Che è quello che facevano Cerotti negli anni, sono quelli che hanno fatto anche altri allenatori. Ma A2 cambia la questione. Perché il Reinders, noi l'abbiamo visto nel secondo tempo andare bene, ma quando il Torino non attaccava più. Il Torino ormai ci aveva lasciato campo. Ma che succede quando tu hai squadre ostiche, quando hai squadre che si infilano negli spazi, che sanno ripartire? Copri con il Reinders? Non puoi coprire con il Reinders, copri con il solo Fofana. Abbiamo una telefonata, Giacomo ti chiami? Sì, ciao ragazzi, ciao Alfredo. Ciao Alfredo. Ciao, pianto complimenti e sono contento di risentirmi da un po' che... Grazie. Certo, allora, intanto saluto tanto Enrico che seguo sempre. La domanda, due considerazioni veloci volevo fare. La prima è che, vabbè, sabato prima di vedere la partita, ho visto la formazione e lì mi sono messo le mani nei pochi capelli che ho. E purtroppo era completamente sbagliata. Vabbè, capita, l'allenatore deve anche capire come girano chi fidarsi, come mettersi, come mettere in piedi bene la squadra. E purtroppo era tutto sbagliato. La seconda, io darei molta, molta importanza, e moltissima importanza, alle parole di Alvaro. Cosa che vedo che un po' non abbiamo una mentalità vincente. E questo è un po' di questi ultimi anni. Quando noi, e poi vi lascio davvero, ci siamo fatti eliminare dal Torino, io sempre lì rimango allo stadio, in Coppa Italia, con Torino con mezza squadra e loro in dieci. Lì ho capito che il Milan non ha la mentalità vincente. E questo è il grande segreto, la primissima cosa che deve sistemare Fonseca. La mentalità vincente dei giocatori, che non è importante scendere in campo e specchiarsi e farsi vedere che sono bravi. Ragazzi, bisogna sputare sangue. Non è un cocompress. Grazie, Fredo. Spero che Enrico mi dia una risposta. Sì, sì, sì. Ciao, ciao, ciao. Enrico, problema di mentalità. Io però aggiungo, Morata e anche Fofanà sono arrivati per questo motivo. Sì, scusami, chiudo e poi lascio Enrico. Per me, più che appunto dell'argomento che abbiamo parlato fino adesso, modulo, copertura, equilibrio, per me è quasi più lì il problema del Milan. Allora, la chiamata mentalità vincente, secondo me non è corretta, è reattività. Allora, però, la reattività è quella che noi effettivamente abbiamo visto, perché la squadra, la ripresa, la ripresa tardivamente, la ripresa in extremis, potevano riprenderla perché poteva anche perderla, perché potevano riuscire l'impresa, però quella è la disperazione. Ora, noi dovremmo avere non disperazione, ma determinazione quando entriamo in campo, cioè quando la partita la dobbiamo costruire, la dobbiamo creare, perché una volta che l'hai compromessa, è facile trovare quegli stimoli. Trovarli quando devi giocare con calma, gestire quindi la pazienza e la calma, perché è una partita scacchi ovviamente, no? Ma devi avere quella cattiveria e quella determinazione che è quella che non abbiamo visto. Ripeto, è quella determinazione che in certi giocatori noi non abbiamo e che secondo me non avremo. Io non credo, francamente, ma non voglio continuare a prendermela con Leao, lo voglio premettere, è solo un esempio che voglio prendere. Non credo che un giocatore come Leao possa mai cambiare questa sua assenza di caratteristica. Cioè come in Zaghi, un giocatore come in Zaghi ce l'ha nel DNA. Ci sono dei giocatori che non ce l'hanno. Cioè tu non pensi che possa crescere, che possa andare oltre quelli che sono i propri limiti? Da quel punto di vista no, da quel punto di vista sicuramente no, è un giocatore che può crescere tatticamente, ma c'è un Lewandowski, uno che vedi che ha una cattiveria, una carogna dentro quando tira, che non lo vedrai mai in Leao. Eppure è un giocatore che ha valutazioni simili, se ci pensi. E probabilmente è troppo alta la valutazione. Cioè noi sopravvalutiamo molto, secondo me, il giocatore Leao, che è un ottimo giocatore, ma non ha sicuramente nella caratteristica... Non ancora decisivo come... Non ancora, secondo me non è decisivo. Non è decisivo. Cioè secondo me non è... Okafor, che è un povero Cristo con un bagaglio tecnico inferiore rispetto a Leao, quella cosa ce l'ha. Eppure ce l'ha. Ora, tu devi capire intorno a chi costruisci la squadra. La costruisco intorno a quelli che mi danno garanzie o quelli che non mi danno garanzie. Fonseca deve fare e battezzare bene quali sono i giocatori che in questa squadra gli daranno il massimo rendimento. Altrimenti farà la fine di Pioli, che ha continuato a fidarsi ciecamente di giocatori che rendimento non gliene davano. Non ha la cazzimma, dicono, come si dice in napoletano. Io però su questa cosa qua volevo fare un passo indietro, perché sul tema di Calulu, sul tema della possibile cessione di Calulu, ma in generale Henry, anche sulla capacità di vendere, perché è una cosa che l'abbiamo sempre detta anche dall'inizio mercato. Cioè dal punto di vista degli acquisti, Milan tutto sommato ha dimostrato, a parte Zirze, più o meno, grossomodo, quelli che erano i propri obiettivi, poi in un modo o nell'altro l'ha portata a casa. Dal punto di vista invece del vendere... Guarda l'Atalanta che lo sta facendo con Copminers pur di... Comunque Calulu ha valutato meno di 20 milioni, è vero che arriva da una stagione disgraziatissima, però è anche vero che prima dell'infortunio era sicuramente tra i giovani più talentuosi arrivati peraltro a parametro zero o quasi. Tu che dici? Allora, il Milan ha preso i suoi obiettivi, ma bisogna anche vedere che obiettivi erano. Tutti obiettivi altramente raggiungibili e facilmente raggiungibili, perché non è che ha preso profili da 50-60 milioni, il Milan è andato su profili da... ha preso Morata a 13 con una clausola, quindi senza concorrenza e soprattutto abbiamo visto quanto gli è costato a Morata la scelta di venire a Milano, quindi è stato assolutamente una casualità, cioè un'occasione, le famose occasioni, e l'hai preso a 13 perché una prima punta tu a 13 non la prenderai mai. Dopodiché gli altri sono giocatori, cioè puntare a Emerson Royale è tutta sta roba, cioè è così difficile portarsi a casa a Emerson Royale che non lo voleva nessuno, lo volevamo solo noi, cioè ci siamo portati a casa dei giocatori su cui non è che ci fosse questa enorme concorrenza e comunque su delle cifre dove se non è quello è un altro per le altre società, cioè è molto facile orientarsi su alti prospetti. Ora, vendere chiaramente è un problema, Valdini è stato regalato, per qualsiasi motivo si è stato regalato, la stessa cosa potrebbero fare con Nasti, stiamo vedendo con Calulu comunque una capacità di cedere molto semplice, cioè opponiti, voglio l'obbligo, o l'obbligo resta con noi, e invece no, ma perché? Perché c'è un incartamento sul discorso liste che fa paura. Vai a dire a, appunto, Loftus Cicco, altri giocatori che sono fuori dalla Champions, che non vengono a giocare alla Champions, vai a dire a un giocatore che è solo perché giochi la Champions, che a cinque giorni o una settimana dalla fine del mercato, due settimane dal mercato, sono fuori dalle liste Champions. È chiaro che vorranno essere ceduti e in quel caso ti si aprono mille problemi, perché questa società sulle eccezioni, ma soprattutto sulla rete di mercato, quindi avere connessioni con procuratori o altro, si è sempre fatta il vuoto intorno. E quindi è difficile, diventa tutto molto complicato. Ora, se vendono veramente Pobega, anche questo ti dà la misura, ma non perché Pobega debba rimanere, ma Pobega lo devi tenere per le liste, perché ti stai presentando senza i quattro, i quattro, i quattro Vivaio Italia e i quattro Vivaio Milan. Cioè, già ne hai tre e due, perché Florenzi è infortunato. Ne togli un altro, ne hai uno. Cioè, stiamo praticamente andando a casaccio. Perché? Perché la programmazione è stata quella che è stata. Di tutte, perché, ripeto, la risposta è semplice. Il primo obiettivo di mercato era un DS. Non è stato fatto e continuano a fare mercato persone che, secondo me, la gestione sportiva di questa squadra non la sanno fare, non la possono fare, non la dovrebbero fare, almeno, in un mondo normale. Poi, che la possano fare, sì, perché ne hanno facoltà, ma che siano in grado di farlo è un altro discorso. Che altro, io mi chiedo, la narrazione sulla creazione del mondo da parte di Dio, quanto andrà avanti, però va bene, per carità, per carità di Dio. No, i sette giorni. Eh, sì, lo dico, Zlatan dovrebbe finirle elementari, se non sbaglio, quest'anno, no? Giusto. No, scherzi a parte, Leo. Alla luce di tutto questo che stava dicendo anche Enrico, cosa aspettarsi dagli ultimi giorni di mercato? Di fatto quasi nulla, nel senso, io, ripeto, ho molta più fiducia nell'allenatore rispetto che nella dirigenza. Mi spiego. Le scelte di calcio mercato dei giocatori da due anni a questa parte sono scelte spesso e volentieri opportunistiche. Cosa vuol dire? Occasioni. Cioè, non c'è voglio quel giocatore lì perché con l'allenatore si sposa bene. Non voglio quel giocatore lì perché è un giovane di prospettiva. No, non ci sono giovani di prospettiva, non ci sono giocatori che si sposano bene con il gioco prima di Pioli, poi di Fonseca. Sono occasioni di mercato. Quindi, se la strada è questa, dato che Ibra stesso ha detto che Fofana, Pavlovich, eccetera, erano giocatori che volevano prima di Fonseca, si è tradito, tra virgolette. Perché vuol dire che ho preso l'allenatore che chi se ne frega se li vanno bene o meno, li deve far andare bene. Sì, questo è vero. Non è che mi sta bene, però poi non diamo le colpe, diciamo, Paolo Fonseca è scarso. Paolo Fonseca deve fare dei miracoli con una squadra costruita male, con dei giocatori a mio avviso forti, ma dove deve cercare di metterli in fila, di farli giocare bene, insegnandoli i movimenti difensivi da capo. Se mi chiedi di fare un minestrone mi devi dare le verdure, perché se no io non... Esatto. Quindi, sono occasioni. Adesso, Emerson Real potrà fare meglio di Calabria? Probabilmente sì, però è il giocatore di Fonseca? No. E quindi lui deve fare quello che può... Leo, però la scelta di Fonseca è esattamente questa. Cioè, prendo un allenatore che pur di dire e mettere in curriculum che allena il Milan, mi dice, ok, su tutto il resto non mi rompere scatole. Cioè, è quella la scelta e costa 2-5. Anche lì si tratta di opportunità, perché è stato preso da un mazzo che nessuno di noi aveva in mano. Perché il nome di Fonseca non ce l'aveva nessuno. No, allora, sì, su questo sono diciamo d'accordo, però poi vado a vedere gli altri e mi sto sempre più convincendo che una scelta, tra virgolette, diversa in un periodo storico dove il calcio si sta trasformando. Perché è particolare, se ci pensi, Bayern, Monaco, Liverpool, eccetera. Cioè, io sono ancora scioccato da quello che sta succedendo con Conte a Napoli. Eh, io lì volevo arrivare. Una domanda su questo, perché giustamente qualcuno in chat, anzi più di qualcuno in chat, ce l'ha fatto notare. Non eravate voi quelli per Conte al Milan, che alla prima giornata ha preso tre pippe? Però è vero, anche questo, infatti, Harry, dici la tua su questo. Ci ho fatto un video oggi, quindi il mio video di oggi è proprio su questo argomento, che è il menopegismo. Da un lato quello di andare a vedere i fallimenti degli altri per trovare conforto nel fallimento proprio. Quando invece, a maggior ragione, proprio perché gli altri stanno in difficoltà, tu dovresti fare il vuoto dietro e approfittarne invece che rimanere lì esattamente nel guado. Secondo poi, il discorso di Conte, almeno per quanto mi riguarda, è sempre stato uno. Non è che Conte è la garanzia di vincere. Conte è la dichiarazione di voler vincere. Che è un discorso diverso. Vuol dire che la società manifestava l'intenzione palese di fare una scelta di campo per provare a vincere, indipendentemente dal fatto di riuscirci o meno. Cioè, quello che ha fatto De Laurenti, prendo un allenatore che per me, sulla carta, cioè faccio capire, voglio vincere, poi se ci riesce o non ci riesce è un altro discorso. Immaginatevi la situazione a Napoli quest'estate senza Conte. Cioè, Conte è stato quello che ha permesso di placare gli animi della piazza. Sì, però, alla quarta partita, se va avanti così, li placare. Ma questo poi è un altro discorso, però la risposta, Enrico, quello che ha detto è la dichiarazione di intenti che fai presentando Conte. Certo, c'è chiaro. Ma non è Conte il soggetto. Il soggetto non è Conte, il soggetto è la società. Sono loro, è la loro intenzione. Cioè, compro il migliore che c'è sul mercato di quelli che posso permettermi perché non posso arrivare a Klopp o ad altri e prendo lui e so che trasferisce quella cosa. Poi, ci riesce o non ci riesce, ma attenzione, se non ci dovesse riuscire, dubito che a Napoli, e questo perché è la figura catalizzante ed è proprio il motivo per cui Conte non si entra sulla nostra banchina uno dei, nessuno se la prenderà con Conte. È molto difficile. La prenderanno con De Laurentiis, che non ha fatto il mercato. La prenderanno con gli altri perché lui assorbe la critica ed è quello che la nostra società non può permettere. Io sogno le dimissioni di Conte prima del 31-8. Sarebbe bellissimo. Ciao, come ti chiami? Ciao, ragazzi. Sono Fabio da Genova. Chi come, scusami? Ciao, ragazzi, sono Fabio da Genova. Ciao, Fabio. Ciao, bentornato. Ciao, grazie. Bentornati a voi. Dici tutto. Allora, intanto, per una volta sono d'accordo con Enrico sul fatto di layout. Per quanto lo stimi molto, ma non sono sempre molto d'accordo anche su quello che diceva la società. Però su layout secondo me ha ragione. A una certa età ormai layout, io non so quanto possa migliorare ancora. A questa età qua dovrebbe già essere un top player mondiale e non lo è proprio per questioni di tempo. Quindi bisogna fare una scelta, si va avanti con layout o si cambia il gioco della squadra in funzione di qualche altro giocatore, perché sennò tu sei costretto a fare sempre 4-2-3-1. Per quello sono completamente d'accordo con lui. Finalmente si vedono le stati di Conte a Napoli. Per chi lo voleva al Milan, Conte è questo qua. Conte avrebbe fatto la stessa cosa che con noi, perché la società non vuole spendere come vuole spendere Conte e quindi poi darebbe le colpe subito alla società. Ambiente malsano fin da subito. E comunque è uno gioventino, ragazzi. Su! Vabbè, sovra tutto noi. Sovra tutto noi. Grazie, Fabio, grazie. Vedo che abbiamo alzato il livello. Prego, Henry, a te la replica. Vedo che abbiamo alzato il livello del dibattito con è uno gioventino. Io vi devo abbracciare, ragazzi, perché manca un minuto all'inizio della mia live. Allora ti abbracciamo noi, Henry, perché ci hai dato, come al solito, un sacco di spunti di riflessione. Ci sentiamo presto. Ti lancio una provocazione. Avete detto, sarebbe interessante vedere le dimensioni di Conte. Pensa quanto sarebbe più interessante vedere le dimensioni di Fonseca, perché non gli hanno fatto il mercato che voleva. Signor Enrico Sivestrin, ciao Henry, grazie. Ciao, a presto, a presto, a presto, a presto. Leo... Ciao, a presto. Grazie a tutti